Quest'anno l'estate ha sorpreso tutti con la sua tenace, estendendosi fino a metà ottobre. Tuttavia l'autunno sta finalmente prendendo il sopravvento, portando piogge e un brusco calo dalle temperature di oltre 15 gradi. Questi saranno probabilmente gli ultimi giorni estivi, poiché dal 17 ottobre si prevede un netto abbassamento delle temperature, inizialmente nel nord e poi anche nel centro e nel sud del paese. Anche se non saranno temperature gelide, ci aspetta un calo significativo rispetto al caldo estivo, con una diminuzione di 13-17 gradi in tutta la penisola, accentuata dalla pioggia e dal vento. Dal 19 al 20 ottobre inizierà una fase di maltempo con piogge consistenti, sebbene già dal 17 ci saranno nuvole sparse che porteranno qualche rovescio nelle regioni centrosettentrionali. Le regioni centrali e meridionali sperimenteranno il calo delle temperature solo dopo il 20 ottobre a causa del richiamo di aria calda proveniente dalla depressione presente sulla Spagna. Mentre la perturbazione si sposterà verso est, l'aria fresca fluirà anche a sud. Ci aspettiamo freddo intenso nell'Europa centrosettentrionale con le prime gelate deboli notturne in Germania.